Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, nel libro del profeta Abba Kuk leggiamo queste parole Il giusto vivrà per la sua fede. Queste parole del profeta Abba Kuk saranno poi, dopo molto tempo, citate dall'Apostolo Paolo ai Galati, in una delle sue epistole Dicendo così Orche nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio, è manifesto perché il giusto vivrà per fede Qui l'Apostolo Paolo sta spiegando che la giustificazione che dà vita Si ottiene, ossia l'uomo la ottiene Non per le opere della legge Quindi non per i propri meriti, non per le proprie fatiche Ma mediante la fede Quindi le parole del profeta Abba Kuk preannunziavano la giustificazione per fede L'Apostolo Paolo citerà queste parole del profeta Abba Kuk anche nella sua epistola ai Santi di Roma Quando Dice ai Santi di Roma che lui era pronto ad annunziare l'Evangelo anche a loro che erano in Roma E dice quanto segue Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo Perché esso è potenza di Dio per la salvezza ad ogni credente del giudeo primo e poi del greco Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto Ma il giusto vivrà per fede Dunque queste parole l'Apostolo Paolo le cita anche qui Per confermare che l'uomo viene giustificato per la fede Senza le opere della legge Perché mediante la fede l'uomo ottiene la giustizia che viene da Dio Dunque l'uomo viene giustificato gratuitamente per la grazia di Dio E la giustizia di Dio o la giustizia che viene da Dio è rivelata nell'Evangelo Sì proprio nell'Evangelo E che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo Che è morto per i nostri peccati secondo le scritture Che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture E che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio Questo è l'Evangelo nel quale è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede Dunque voi che siete sotto il peccato Dovete sapere che agli occhi di Dio voi siete dei peccatori In quanto peccate e siete quindi schiavi del peccato Perché chi commette il peccato è schiavo del peccato Ora, essendo dei peccatori Voi siete dei nemici di Dio Perché avete violato la sua legge Infatti il peccato è la violazione della legge Dunque, in questa condizione Voi siete sulla via della perdizione La via della perdizione è la via che mena nelle fiamme dell'inferno Perché dovete sapere che esiste un luogo di tormento chiamato inferno Ed è un luogo di tormento dove vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati O di coloro che sono sotto il peccato Dunque, voi vi trovate Si può dire in prossimità dell'inferno Perché state andando all'inferno Io quindi vi annunzio l'Evangelo La buona novella Affinché credendo nell'Evangelo Voi otteniate la giustizia Che viene da Dio Che è basata sulla fede Perché nel momento in cui Voi crederete nell'Evangelo Voi otterrete la giustizia di Dio E sarete giustificati Vi sentirete giustificati Perché il Signore vi avrà resi giusti E allora potrete esclamare assieme a noi Giustificati dunque per fede Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore Ma fino a che non crederete nell'Evangelo Voi rimarrete sotto il peccato Non importa quante opere meritorie farete Non importa quante opere di giustizia compirete Ma fino a quando voi non crederete nell'Evangelo Voi davanti al Signore rimarrete dei peccatori E rimarrete sulla via della perdizione Quindi la giustificazione non ve la potete meritare Non ve la potete conquistare Con le vostre opere Perché la giustizia di Dio È rivelata nell'Evangelo Quindi per essere giustificati Dovete credere nell'Evangelo Non c'è un'altra maniera Quindi io vi esorto a ravvedervi E a credere nell'Evangelo Per essere da Dio giustificati Per essere dal Signore perdonati Per essere liberati dai vostri peccati E per ottenere la vita eterna Perché nel momento in cui crederete nell'Evangelo Oltre a ottenere la giustizia di Dio Voi otterrete la vita eterna Che chi crede ha vita eterna E quindi sarete strappati alle fiamme del fuoco Dell'inferno dove siete diretti Avrete quindi la certezza Che quando morirete Andrete ad abitare con il Signore nel Regno dei Cieli Sì, vi dipartirete dal corpo E andrete ad abitare in Paradiso Con il Signore Dunque non illudetevi Non pensate di potervi giustificare davanti a Dio Con le vostre opere La vostra giustizia agli occhi del Signore È come un abito sporco Voi avete bisogno della giustizia di Dio Che è rivelata nell'Evangelo Ecco perché vi esorto a credere nell'Evangelo Credete nell'Evangelo E sarete giustificati Otterrete la giustizia di Dio Il Signore avrà misericordia di voi E non sarete più gli stessi Sarete delle nuove creature Sì, delle nuove creazioni Perché il Signore vi rigenererà Mediante la sua parola Vivente e permanente Credete dunque in colui che giustifica l'Empio Credete in Lui E sarete giustificati Secondo che è scritto Il giusto vivrà Per la sua fede Chiarecchi da udire Oda Oda